Ecco, la potenza dello sport in un messaggio di questo genere, cioè è tutta comunicazione? Sì, ma insomma non a caso che le Olimpiadi moderne esistono dal 1896 e di fatto il mondo paralimpico si è unito, si è congiunto, si è abbinato dall'edizione storica di Roma del 60, quindi è come se dividessimo in due tronconi il nostro percorso del passato e oggi mi sento di dire, pur rappresentando il mondo del Comitato Olimpico, tra virgolette dei normodotati, che per certi versi la competizione a cinque cerchi è molto, ma molto più importante per loro che non per le altre atlete e gli altri atleti, perché insomma ci sono più occasioni per far ricordare quello che uno vale, le competizioni, ci sono anche dinamiche economiche di media, invece lì c'è proprio le luci della ribalta e poi quella foto insomma è stata... L'esaltazione più assoluta, poi ognuna di loro tre, li conosco molto bene, hanno una storia incredibile alle spalle e oggi abbiamo dei ragazzi che vanno molto forte, che più che camminano corrono, ecco questo dire, non sui cento metri ma insomma sui cinquemila, diecimila, abbraccio a Yemen, tutti quanti loro. Perfetto, un applauso a loro. Sono contento, ci sono gli amici della polizia che sono qui, poi ho visto chi rappresenta i gruppi sportivi dell'esercito dell'aeronautica militare, insomma anche in questo Lautari e Alice hanno fatto veramente un grande lavoro.